Dobbiamo contattare il generale Kenobi. Rapito, Jabba the Hutt figlio è stato. Il trattato con Jabba, Obi-Wan negozierà. Trovare i rinnegati che hanno Jabba figlio, la tua missione sarà, Skywalker. Luce rossa, stand by! Presto i Jedi non saranno in guerra solo con voi, conte, ma anche con il clan degli Hutt. Non hanno via di scampo. Liركali! Vieni! No, 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 no.